Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 8 minuti più 6 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono caffè, panna fresca, zucchero e gelatina di colla di pesce in fogli ammollata. Andiamo via la ricetta. Iniziamo polverizzando lo zucchero. Inseriamo lo zucchero e lo andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo lo zucchero sul fondo e andiamo a unire la panna. e andremo a cucinare per 5 minuti. 5 minuti, 80 gradi, velocità 4. Adesso uniamo la colla di pesce, strizzata. e cuciniamo ancora per altri 2 minuti, 80 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo il caffè e andiamo a mescolare il tutto per 40 secondi a velocità 3. Il nostro composto è pronto. Andiamo a riempire degli stampini e posizioniamoli in frigorifero per almeno 6 ore. Panna cotta al caffè. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.